ciao a tutti bentornati sul canale benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 9 al 16 ottobre 2022 ragazzi come avete potuto notare ho cambiato il nome del canale il canale non si chiama più stars and the city ma lì a buccia astrologia evolutiva volevo mettere lo stesso nome anche su instagram ma non mi hanno trovato infatti molti mi hanno scritto perché ragazzi loser id astrologia evolutiva è stato preso in entrambe le versioni da due profili che però non lo utilizzano hanno pochissimi follower tipo una sessantina insomma sono due profili morti quindi non ho potuto non ho potuto mettere la stessa dicitura trovate sempre il link del mio profilo instagram e anche facebook nell'infobox sono lì astrologia evolutiva indaco poi vi metto alla dicitura ve lo scrivo qua sotto in sovraimpressione perché sono il proprio lo sto cambiando in queste ore quindi non ho ancora trovato qual è la cosa magari faremo un sondaggio no mi aiuterete voi magari lo faccio su instagram nelle storie di instagram magari perché a instagram magari mi aiutate voi a trovare un nome che mi caratterizzi perché giustamente sono con urano sul sole sulla luna ragazzi sono in fase di grande rivoluzione anch'io ho colto al balzo nel giorno dell'equinozio il furto del nome del del canale non mi sono non lo hanno hackerato lo hanno praticamente clonato facendo l'uguale e chiedendomi spacciando diciamo per me con la mia immagine e offrendo dei consulti con un prezzario spagnolo tra l'altro molto alto quindi mi auguro che voi non ci siate capitati ovviamente sono andata alla postale però ovviamente tutto quello che accade fuori fuori dal dei confini italiani a livello di diciamo di reati web lascia un po resta un attimino diciamo libero non non si può intervenire perché la giurisdizione internazionale interviene soltanto per reati gravi quindi ho colto la palla al balzo per cambiare per cambiare il nome del canale perché così si sa che l'equinozio l'energia dell'equinozio è un energia per cui i fasti estivi sono terminati si iniziano a scendere all'essenziale come accade in natura inizia si inizia a riconcentrare a radunare tutte le energie per per scendere nella profondità l'autunno e l'inverno apparentemente sono dei periodi fermi ma in realtà sotto sotto traccia sottoterra si stava rigenerando la vita e quindi era un momento la sincronicità tra questo problema no di col di clonazione del canale e l'equinozio di autunno mi ha fatto capire che era il momento di lasciare andare qualcosa che effettivamente da un po di tempo non risuonava più con me con la piega che ha preso il canale che è diventato molto più evolutivo parlo del nome stars and the city e quindi in fase così di rinascita e di trasformazione cerchiamo di trovare un nome che così che identifiche almeno questa fase del del canale quindi ragazzi sono gli abucci astrologia evolutiva non faccio consulenze private questa il fatto di forse probabilmente lo scriverò nella copertina del canale che a me era tanto carina dispiaceva macchiarla però ragazzi io non faccio consulenze private ho fatto qualche lettura privata in passato ma non è la mia strada quindi scrivermi nelle mail scrivermi da altre parti non non con non mi metterà nella condizione di darvi una come dire una risposta diversa da quella che è mi occupo di video su youtube farò dei corsi di astrologia posso fare dei pdf ma non contemplo l'astrologia nella lettura del tema natale in chiave evolutiva quindi volevo sottolinearlo perché c'è chi si dispiace ma io non riesco a rispondere a tutti non riesco a rispondere a tutti c'è chi si dispiace ma io sono una persona sola con una vita sola faccio già molte cose dovrei assumere una segretaria per dire alle persone che non faccio consulenze nonostante le scritte soprattutto su instagram siano chiare e inequivocabili quindi non la prendo la segretaria ve lo dico qui ve lo dico qui che non mi occupo di letture private e invece veniamo a cose più importanti i transiti di questa settimana dal diciamo dal 9 al 16 il 9 c'è una luna piena in ariete ragazzi tosta forte molto molto impegnativa e quindi ne abbiamo già parlato nella nell'oroscopo della prima settimana ovviamente c'è stato un accenno però ragazzi questa luna piena tra unita al fatto che il giorno 9 anche plutone in capricorno tornerà diretto c'è infatti è uscito un video non a caso insomma significa che l'energia che l'energia è tanta quindi ne abbiamo abbiamo accennato diciamo di questi transit nella scorsa settimana ne riparliamo adesso perché li sentiremo a catena c'è chi li sente prima chi li sente dopo quello che può accadere a livello mondiale ragazzi è la scomparsa di qualche leader mondiale questo è chiaro c'è la luna in c'è la luna in ariete una luna marziana quindi di scontro di attacco di quello che volete voi e plutone lo stesso giorno torna diretto plutone in capricorno per chi non avesse visto il video di due video su plutone in capricorno abbiamo plutone in capricorno lavora a livello individuale sulla correttezza il rigore e il rispetto delle regole previa l'acquisizione di esse perché le regole si possono aspettare si possono rispettare quando le abbiamo recepite nella loro profondità e nella loro interezza in ogni settore del tema natale dove plutone sta passando è un transito molto lungo iniziato nel 2008 finirà nel 2024 quindi la trasformazione è lenta e si acuisce o si rallenta quasi quasi fino a dimenticarcene nei momenti in cui gli altri pianeti di transito non formano aspetti no perché è chiaro che non è che in vent'anni uno può stare concentrato sul settore dei sentimenti o sul settore carriera la vita è fatta di tantissimi di tantissimi aspetti di di tantissimi settori no quindi guardando diciamo facendo un bilancio dal 2008 fino al 2024 plutone ha lavorato in una casa in un caso di ognuno di noi lo potete vedere nei propri video quando fa retrogradazione diventa più pesante cioè l'universo ci impone uno stop ci impone uno stop quindi una rivalutazione di determinate situazioni e poi la la ripresa il 9 c'è la ripresa a livello internazionale come dico anche nel video ragazzi plutone dal 2008 sta lavorando sugli organismi di potere sui poteri forti sulle istituzioni su tutte le simbologie legate al segno del capricorno quindi anche al rispetto delle regole a le tirannie ai regimi troppo forti alcuni alcuni capi di stato in alcune parti del mondo ci sono guerre più o meno dichiarate nel senso che ci sono una quarantina di guerre credo sul pianeta in questo momento vado a memoria ma la stampa si occupa di determinate perché purtroppo la libertà di stampa non c'è la stampa appartiene ai poteri forti quindi non sappiamo tutto quello che accade ma ovviamente con questo plutone retrogrado negli ultimi cinque mesi ho fatto anche un reel su su instagram dei poteri forti sono mancati chi per morte come la regina elisabetta altri magari non sono stati eletti e quindi c'è stato un rimescolare le carte di cui poi ovviamente vedremo i risultati con calma più in là come sempre accade su su queste cose l'effetto della sostituzione il giorno 9 complice la luna piena in ariete possiamo considerare la grande sostituzione di poteri terminata c'è l'ipotesi che proprio nelle giornate dell'otto 9 10 qualche altra pedina venga tolta e poi plutone che questo grande trasformatore sarà diretto fino al 2 maggio ma il 23 mar fino al 2 maggio 2023 firma il 23 marzo entrerà inizierà a fare il suo percorso nel segno dell'acquario quindi lascerà un attimo le istituzioni e farà inizierà a fare una capatina nel nel segno acquariano dei popoli del rischio delle della solidarietà nelle simbologie di solidarietà di eguaglianza no quindi ci sarà pochi mesi perché se non erro a giugno inizierà già tra giugno e luglio 2023 sarà già fuori dal capricorno no poi tornerà in acquario definitivamente nel 2024 però i pianeti soprattutto quelli lenti indugiano a cavallo fra un segno e l'altro con continui moti di retrogradazione alternati a moti diretti 45 mesi su 45 mesi giù proprio perché prima di abbandonare un segno di ritornarvi dopo 255 anni come dire il pianeta cerca di raschiare il fondo del barile in questo suo lavoro energetico di rinnovamento e di rivoluzione di trasformazione soprattutto la retrogradazione a cavallo fra un segno e l'altro è molto forte cioè quando un pianeta è nei primi gradi o agli ultimi gradi di un segno ma anche di una di una casa del tema natale dal colpo di coda si fa sentire molto di più di quando transita magari no in seconda così in seconda decade e quindi l'energia che muove riguarda tutte le simbologie del segno e va ad investire anche chi ha il sole nelle prima delle prime decadi anche se plutone sta alla fine quindi aspettiamoci la rivoluzione non è finita però il giorno 9 insomma nelle ore del giorno 9 potrebbero accadere delle cose e potrebbe così anche inaspettate per cui la ripartenza a partire dal giorno 10 sarà su basi e su presupposti diversi potrebbe essere non diciamo sarà potrebbe essere su basi e presupposti diversi rispetto a quelli e che noi prendiamo in considerazione adesso quindi ci sono delle grandi rivoluzioni in atto poi va bene volevo dirvi di plutone in acquario ma ne parleremo separatamente approfonditamente perché plutone è un pianeta particolare ok porta tante novità quindi questa settimana abbiamo plutone che torna diretto megaluna piena in ariete opposta al opposta al sole opposta al l'opposta alla venere ragazzi e e il giorno 10 mercurio entrerà lascerà il segno della vergine quindi il suo domicilio ed entrerà nel segno della bilancia quindi ci sarà un'energia di grande ripartenza di grande imprinting di grande impulsività che però chiederà di essere bilanciata quindi sarà una settimana in cui giocano un ruolo particolare gli equilibri siccome una luna piena in ariete ed è opposta ai pianeti in bilancia tra cui la venere io temo che ci siano ulteriori peggioramenti e fatti come dire importante di crudi croenti in iran un posto dove ci sono queste proteste per la morte di queste studentesse e mentre il mondo sta sta a guardare e non intervengono e non intervengono quindi qualcosa potrebbe potrebbe accadere anche la e ragazzi anche in russia ci sta c'è poco da girarci intorno quindi a livello individuale un po di coppie le relazioni le situazioni ufficiali ufficiali un po messe come dire a dura prova ci sono sicuramente tensioni nella coppia attenzioni negli ambiti politici e di legge quindi insomma un autunno abbastanza caldo anzi particolarmente caldo noi auguriamoci bene come fanno i napoletani e ebbene avremmo dicono loro è insomma quella è legge adattazione inside quindi vediamo che cosa accade questa settimana segno per segno ma dopo la sigla cari amici dell'ariete cari amici con l'ascendente ariete questa è una settimana caratterizzata da un'energia propulsiva la luna piena la settimana inizia con una luna piena sul vostro sole quindi la personalità la forza young maschile quindi le iniziative l'energia la passione o sul vostro ascendente che è il personaggio pubblico che come se si ribellasse come se avesse bisogno di rinascere risorgere ripartire oppure combattere a seconda delle situazioni che state vivendo e quindi c'è una grossa come dire spinta all'individualismo vista l'opposizione di di sole e venere in bilancia molti di voi potrebbero avere una spinta molto forte ad uscire dalle relazioni di coppia o a trasgredire o proprio a proprio a palesare no un bisogno di singletudine di individualità no quindi è un momento molto teso per le situazioni di coppia è un momento molto teso anche per il rapporto proprio con gli altri in generale perché da una parte dovete conciliare e dall'altra vorreste essere da soli e pensare solo a voi quindi è un momento particolarmente critico è un momento critico se avete una società perché sicuramente potrebbe sicuramente ci saranno dei contrasti quindi una tra i soci e anche per quanto riguarda i contratti lavori acquisizioni insomma l'energia non è particolarmente equilibrata c'è la fortuna di avere marte e saturno disposti come avevo già detto nella scorsa settimana in maniera perfetta proprio degli ottimi punti di talete cioè quei punti che si mettono in mezzo a un'opposizione invece di fare mezzogiorno di fuoco e invece che far sì che nelle nostre vite si verifichi un duello veramente da mezzogiorno di fuoco l'energia si distribuisca quindi con una mediazione con un viaggio con un con l'acquisizione di magari nuovi professionisti nuovi consiglieri nuove persone del vostro entourage che vi possono aiutare si può trovare una quadra no e non mandare tutto all'aria perché la voglia di individualismo o anche la passione la nuova passione per qualcosa che va a cozzare con quello che rappresenta una situazione ufficiale del passato questa settimana sarà particolarmente forte nel contempo plutone diventa diretto e quindi tutta quella messa in discussione delle vostre ambizioni delle vostre mire delle vostre aspirazioni adesso come se ripartisse se avevate messo in discussione qualcosa e quindi se nel frattempo avevate sostituito un obiettivo oppure sembravano sembravano non esserci più presupposti ma adesso si si riverificheranno questo lo vedrete work in progress lo vedrete work in progress e sappiate che non tutto è perduto potrebbe accadere che durante il mese di ottobre causa mercurio in bilancia che il 10 entrerà voi dovrete ecco bilanciarvi bar camerano un attimo la vostra volontà con quella degli altri quindi a discapito di nuovi obiettivi e di una voglia di fare un percorso nuovo ci saranno delle tempistiche delle volontà altrui da accontentare quindi ci sarà un po di noia un po di frustrazione un po di insofferenza la buona notizia è che la luna nuova in scorpione questa vela spoiler o perché io immagino che voi fatemelo sapere nei commenti ma immagino che siate possiate avere un diavolo per capello e che vi sentiate in gabbia ma la buona le buone notizie a fine mese sono che il 25 ottobre ci sarà una luna nuova in scorpione che insomma parla la lingua di marte e quindi segna una svolta un nuovo inizio una rinascita zitta zitta sotterranea ma poi darà dei frutti interessanti dopo ed è molto sarà congiunta a venere questa luna nuova perché anche venere entrerà in scorpione soprattutto entra in scorpione mercurio quindi in qualche modo finirà questa fase in cui voi dovete reggere capra e cavoli e potrete pensare in maniera sottile discreta zitta 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 a iniziare a organizzare qualcosa che poi vi porterà lontano un lontano tra l'altro anche abbastanza come dire prossimo perché perché voi avete giove che il pianeta della grande fortuna che nel segno dell'ariete lo ricordo per chi capitasse per la prima volta su questi video dall 11 maggio il 28 giove in retrogradazione rientra nel segno dei pesci vi resterà due mesi voi avrete questo momento no di vita che sarà più intensa nelle retrovie nell'inconscio nel lavoro nel vostro mondo interiore piuttosto che nella vita dichiarata riaggiusterete il tiro farete delle rivalutazioni pulirete il vostro inconscio le vostre memorie insomma quella sarà una profonda rinascita e poi bellissimo nelle giornate di natale il 20 dicembre giove ritorna nell'ariete e lì e lì rinascerete con nuove consapevolezze e se lo desiderate con una nuova libertà quindi avrete proprio modo di sistemare tutto vi ricordo che saturno insomma che è quello che fa reggere le cose in piedi è in ottimo aspetto sia sul vostro sole che sul vostro ascendente quindi avete un buon team o un buon progetto che si reggono e che possono sbocciare su cui potete fare affidamento anche se immagino che fino al 23 ottobre con saturno retrogrado dal 4 giugno al 23 ottobre qualcuno del team si è saltato fuori perché con le retrogradazioni di saturno che un severo maestro insomma che mette un po alla prova tutti per vedere più che altro l'adeguatezza delle persone ci sta che qualche pezzo di un progetto qualche area che ne so qualche persona siano rimaste nel passato non ve ne crociate semplicemente un gioco dell'universo perché chi deve rinascere deve poterlo fare su basi solide ok quindi plutone questa settimana a livello di obiettivi di ambizioni torna diretto e quindi inizierete a poter raggiungere di nuovo fare questa scalata no alla vostra affermazione personale il grosso lo sentirete ancora meglio dal giorno 23 quando venere uscirà dalla posizione la luna nuova poi quella il 25 toglierà quell'energia da luna nuova in bilancia che c'è stata dal 25 settembre che vi ha messo in questa condizione di giochi diplomatici di pazienza di diplomazia che vi ha estenuato e saturno torna diretto quindi è un grandissimo momento abbiate abbiate la pazienza di come dire di sapere che anche se questa settimana può essere impegnativa c'è una rinascita le rinascite che vi vengono in mente adesso le passioni che iniziano a bruciare nel vostro cuore se arrivano al 20 dicembre sbocceranno e faranno parte di una realtà rinnovata e meravigliosa quindi questa settimana c'è un grande è un grande esercizio di stile tra voi e gli altri porti al portate pazienza e e aggiustate il tiro perché è un momento di crescita ed evolutivo anche quello in quanto noi impariamo di più dai momenti di sforzo che dai momenti di grande soddisfazione che poi non arrivano mai se prima se dietro non c'è uno sforzo quindi ragazzi pazienza e forza perché la rinascita è con voi ovviamente ci sono quegli ariete che si trovano già avvantaggiati che hanno fatto un duro lavoro su se stessi che con questa luna piena non è che iniziano la rinascita la compiono perché erano già avvantaggiati nel percorso sono riusciti a sfruttare giove martedì martedì nariete di giugno e quindi con questa luna possono celebrare l'inizio veramente di un percorso nuovo a quelli che sono riusciti a portarsi avanti con i lavori perché ce ne sono un grandissimo complimento e che possiate godervela tutta e passiamo agli amici del toro e dell'ascendente toro cari amici del toro e cari amici con l'ascendente toro è la luna piena della del giorno 9 abbastanza impegnativa ribellione e insofferenza siete un fiume in piena un fiume in piena una voglia di liberarvi di tutte le pesantezze della vita che effettivamente per quanto riguarda il segno del toro si sono fatte sentire in maniera preponderante urano che già urano nel segno del toro è già un transito scomodo un transito scomodo perché urano nel toro non è a suo agio no urano sta bene in acquario per esempio quindi lo già bella abbiamo già fatta una una similitudine urano nel segno del toro è come un trattore che dissossa le zolle che porta su tutte le radici le cose ma fa anche dei grandi buchi no perché comunque un rivoluzionario è un pianeta rivoluzionario e distruttivo perché se non distruggi il vecchio non puoi ricostruire il nuovo e si sta muovendo in un terreno abbastanza poco flessibile ed elastico come quello della terra e quindi già va come deve andare poi quando il retrogrado ed è quadrato a saturno che è il suo cosignificante dell'acquario voi vi rendete conto che la croce dei segni fissi toro leone scorpione e acquario ovviamente sono appesantiti ovviamente stanno compiendo delle grandi cose nella propria vita cioè questi non sono momenti che passano alla storia come tempo perso c'è una grande crescita interiore c'è una grande come dire trasformazione dell'energia sia interiormente poi si vedrà anche fuori però mentre urano tornerà diretto solo a gennaio mentre saturno si metterà a favore solo a marzo mentre giove entrerà nel segno del toro gratificandolo solo a maggio voi capite che la pazienza è quella che è e quindi siccome la cosa si fa pesante siccome il toro è venusiano e venusiano quindi gli piacciono i piaceri non si scomoda volentieri insomma la vita gli piace passarla no è anche il toro più lavoratore comunque vuole le sue gratificazioni quando il gioco si fa troppo lungo il toro tira fuori la natura rietina che sa nel suo inconscio e quindi maneggiate gli amici del toro e ascendente toro maneggiate li con cautela in queste giornate di luna piena perché saranno proprio il toro quello della corrida che vede rosso voi sapete che il toro si arrabbia raramente ma quando si arrabbia è meglio scappare è meglio il toro che borbotta borbotta perché scarica tutti i giorni e voi che siete tor ascendente toro fate tanti respiri profondi fiori di buck sfogate andate a camminare nella natura perché sarete veramente fumantini ok e invece invece i pianeti in bilancia contrapposti avete sole e venere fino al 9 dal 10 anche mercurio i pianeti in bilancia invece vi chiedono pazienza conciliazione e di tenere in considerazione sia lavorativamente parlando che nelle cose pratiche di tutti i giorni sì la vostra fretta la vostra frenesia di liberarvi di mandare all'aria tutta una serie di cose ma anche insomma le tempistiche legali di tempo di rispetto del tempo degli altri quindi anche per voi è un bell'esercizio di stile di allenamento alla pazienza sappiate che per fortuna nonostante la luna piena in ariete sia opposta a vari pianeti in bilancio e che quindi la tensione anche nelle coppie anche nelle questioni legali anche nelle questioni politiche no se state in politica anche nelle questioni di salute nel vostro caso ovviamente potrebbero creare delle delle situazioni così di stress di preoccupazione per fortuna marte e urano guardate che il cielo ci protegge marte urano si mettono a metà proprio come punti di talete come dei gioiellini dei pianeti che intervengono in un duello fra altri due pianeti e aiutano aiutano con con la conciliazione magari con un viaggio una breve interruzione che permette di decomprimere no la tela tensione e di scaricare magari un investimento ludico non investimento in qualcosa che fa piacere al toro all'ascendente toro quindi si lascia un po andare alla fine questa settimana così si distrae un attimo e poi nuove consapevolezze per quanto riguarda la professione perché ci sono e questa cosa vi aiuta molto in prospettiva dei rinnovamenti lavorativi e degli avanzamenti di carriera delle promozioni proprio un upgrade un aumento dello status che poi vabbè sarà manifesto da maggio dopo nei giorni del vostro compleanno da maggio 2023 però già il giorno 23 allora già questa settimana plutone si mette diretto e quindi le consapevole consapevolezze il superamento vi renderete conto che avete superato dei limiti vi renderete conto che in questi cinque ultimi mesi con plutone retrogrado siete comunque cresciuti vi siete superati siete stupiti da voi stessi avete abbandonato delle paure avete abbandonato dei vecchi cliché c'è stata una grossa crescita ovviamente se lavorate nella didattica se dovete laurearvi se dovete masterizzarvi se state compie compiendo un lavoro che più di crescita personale è legato proprio alla conoscenza dal giorno 9 si sbloccheranno un sacco di cose ragazzi se siete stati un po incasinati se non arrivano le risposte sappiate che ci sono tante belle novità perché la realtà poi riflette quello che noi guadagniamo e raggiungiamo dentro di noi quindi quando una persona raggiunge una calma una centratura e una maturazione come questo plutone in capricorno sta regalando dal 2008 non vi dico con quale fatica al segno del toro all'ascendente toro poi inevitabilmente migliora anche la realtà quindi comunque dal giorno 9 c'è già questa nuova consapevolezza magari nei termini e nei panni proprio di uno non solo di notizie o di promozioni proprio di nuove persone che siccome voi avete alzato le frequenze iniziano ad entrare nel vostro giro di azione iniziano a dare un contributo maggiore perché quando cambiamo noi cambia anche il nostro entourage vi anticipo anche a voi perché il toro se lo merita dal 23 anche saturno che ha un po bloccato il lavoro le questioni lavorative di proprio di crescita professionale tornerà diretto quindi si sbloccherà anche quello con un grande trigono di marte quindi ragazzi le soddisfazioni sono dietro l'angolo adesso non litigate col partner questa settimana siate meno gelosi siate meno arrabbiati oppure siate meno insofferenti e quando avete quella voglia che con questa luna in ariete no è fortissima quando avete questa voglia di liberarvi di tante situazioni l'universo vi chiede di conciliare ancora un po' vi chiede di conciliare ancora un po' e di immaginatevi come potrebbe essere la vostra vita veramente senza quelle situazioni e quelle persone di cui volete liberarvi e poi in caso prendete le decisioni però l'universo dice che non è arrivato ancora il momento il momento arriverà nelle giornate del 23 ottobre quando tutta una serie di pianeti si sposterà in scorpione saturno tornerà diretto e lì bisognerà decidere tante altre cose quindi adesso cercate di essere concilianti distraetevi con investimenti viaggetti e con la certezza e consapevolezza che la rinascita e le soddisfazioni sono veramente e anche la risoluzione dei problemi ragazzi sono dietro l'angolo quindi cercate di coccolarvi di divertirvi comparibilmente con con le ire funeste della luna in ariete io vi mando un grande bacio vi auguro di riuscire ad essere nel relax no a stare nella gioia e nell'amore perché così vogliono tutti questi pianeti in bilancio venusiani come poi e poi insomma la prossima settimana vedremo meglio cosa fare al lavoro per le ripartenze ci vuole sempre un momento di distacco questa potrebbe essere la settimana adatta e un grande bacio un grande in bocca al lupo passiamo agli amici dei gemelli e dell'ascendente gemelli cari amici dei gemelli e cari amici con l'ascendente gemelli questa settimana anche il vostro governatore mercurio esce dallo scomodo segno della vergine quindi vi sarete sentiti un po' criticati no un po' tenuti al palo troppi doveri troppe cose burocratiche nelle scorse settimane con mercurio in vergine prima retrogrado e poi diretto dal 10 grazie a dio mercurio entra nel segno della bilancia quindi amore voglia di divertimenti buone notizie già ci sono il sole e la venere in bilancia quindi la voglia di amore la voglia di shopping la voglia di divertimenti si accresceranno sicuramente a partire dal 10 fino al 29 se non erro giorno in cui mercurio vostro governatore entrerà nel settore dell'eros e della guerra quindi cambierà completamente energia quindi adesso amore amore divertimenti potreste fare una vacanza fuori fuori mano fuori stagione potreste avere dei grandi ritorni sentimentali potreste avere dei grandi moti di conciliazione se volete avere dei figli questo è un momento particolarmente favorevole propizio c'è soltanto una dicotomia come dire una una tensione una un'energia in contrasto che va vuoi dire armonizzata perché a discapito questa settimana di tre pianeti in bilancia che quindi portano energia all'amore alla coppia alla bellezza no anche alla creatività c'è una settimana inizia comunque con una luna piena in ariete opposta a questi pianeti in bilancia e quindi farete un po' come dire tipo una giostra no tipo quel quell'altalena che sale scende non ricordo il nome a cui giocavamo da piccoli se dovrete bilanciare un po queste due energie quindi da una parte l'amore i piaceri i divertimenti e dall'altra gli amici dei nuovi progetti e delle novità anche nel team di lavoro nella squadra se siete degli sportivi nella classe se siete degli alunni quindi poi fatte queste no individuate queste due polarità che comunque sono assolutamente positive ragazzi si è gestito anche perché ci sono Marte in gemelli e Saturno in acquario che vi aiutano a gestire il tutto e a trovare così quell'equilibrio facendo la scuola un po' a destra un po' di qua un po' di là però potrebbero accadere varie cose per esempio che siete fidanzati e magari dovete andare per lavoro magari temporaneamente fuori oppure che alla vostra fidanzata o al vostro fidanzato non piacciono i vostri amici o sia geloso di qualcuno potrebbero esserci queste cose così oppure sul lavoro o nel team a scuola nella squadra c'è un momento molto impegnativo di nuovi inizi quindi dovreste essere concentrati però l'amore altri magari impegni presi da un'altra parte vi chiamino quindi questa settimana c'è un po' questa 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 alternanza di due polarità però ripeto avete Marte in gemelli per altri cinque mesi per chi capitasse per la prima volta su questi video Marte il signore della lotta della guerra della passione insomma dell'energia che dell'eros anche se un eros abbastanza cerebrale nel segno di mercurio è entrato il 20 agosto nel segno dei gemelli farà una sosta straordinaria sta compiendo una sosta straordinaria di sette mesi e ne uscirà soltanto il 23 marzo tra l'altro il 23 marzo stavo notando nel video di Plutone in Capricorno che non solo Marte entrerà in cancro Plutone entrerà in acquario quel giorno quindi l'energia di marzo 2023 stavo guardando un paio di cosine è fenomenale insomma andrebbe andrebbe attenzionata quindi avete questo periodo no intensissimo che è iniziato il 20 agosto e finisce il 23 di marzo e ovviamente siete in surplus di energie o di grande nervosismo o di grande impegno di grande lavoro che a quanto pare sembra essere doppio perché proprio nella natura del segno dei gemelli e avere una parte luce una parte in ombra un'idea contrapposta all'altra no c'è una sorta di divisione c'è una sorta di contro contraddittorietà insita nel segno anche una sorta di decisione tra un l'emotività e la razionalità e Marte vi farà fare la spola fra due situazioni forse non è detto che siano fisico e potrebbero essere anche in decisioni magari fra due lavori fra due persone fra due gruppi di amicizie fra due facoltà perché comunque un Marte in gemelli dobbiamo tenerne conto prevede un grande lavoro mentale no un grande lavoro cerebrale un grande impegno mnemonico proprio di nozioni quindi chissà quanti gemelli e quanti ascendente gemelli oltre a fare dei viaggi su e giù di continuo sanno magari no acquisendo molte molte nozioni stanno studiando molto siete particolarmente impegnati per fortuna tutto il resto dei pianeti tutto il resto proprio del cielo dell'universo vi aiutano a mettere d'accordo il tutto insomma è a riuscire a far quadrare la situazione perché è sicuramente impegnati ma poi soprattutto quando dura molto tempo ci si stanca anche per fortuna con il trigono di saturno c'è anche la resistenza l'aiuto a far durare le cose anche l'aiuto da persone come dire positive funzionali proprio a sorreggervi o ad accompagnarvi in questo grande tragitto in questo grande percorso in questo ponte io lo vedo proprio come un ponte che dal 2022 vi porta a un 2023 completamente diverso che sarà proprio di trasformazione marte trigono a saturno c'è il video di marte in gemelli che trigono a saturno proprio dedicato a questo transito che vi spiega bene che cosa state facendo questa è una settimana molto interessante perché di questo percorso innanzitutto è una di quelle più equilibrate come armonia con quella luna piena ci sono come in ariete ci sono comunque delle novità riguardo ripeto agli amicizie ad un progetto probabilmente la cosa potrebbe non decollare immediatamente nel senso che nelle giornate il 9 il 10 o conoscete una persona nuova o viene fatto una proposta o iniziate a fare una preparazione poi i pianeti in bilancia sole venere mercurio fino insomma a oltre il 23 del mese vi chiederanno di bilanciare queste due situazioni no come se voi dovesse darvi il tempo di decidere o di armonizzare la nuova realtà con la vecchia e poi quando saturno che adesso il retrogrado tornerà diretto il 23 potrete mettervi in marcia verso qualcosa di potrete mettere successi potrete raggiungere un obiettivo perché se c'è stata una stasi per gemelli ascendente gemelli dal 4 giugno ad oggi portata da pari pianeti retrogradi voi probabilmente avete patito saturno perché è quello che forma trigono quindi era quello che vi stava promettendo tutta una serie di prospettive a un certo punto si è fermato addirittura invertito la marcia quindi siete stati in questa situazione così distasi ma dal 23 inizierete a vedere sicuramente i risultati anche in termini economici questa luna piena potrebbe vi stavo dicendo questa luna piena oltre a nuovi progetti potrebbe portarvi anche nuove conoscenze e colpi di fulmine che potrebbero mettere in discussione i sentimenti e le relazioni preesistenti ma anche se siete dei creativi e lavorate con un gruppo la voglia di passare ad un altro gruppo c'è questa cosa qua in siete indecisi fra il futuro e il e il passato se volete sapere quando muovervi voi aspettate sicuramente il almeno fine mese quindi almeno il 23 di ottobre perché ci sono la riva la vostra rivoluzione non è ancora terminata se proprio dovessi darvi un consiglio vi direi di aspettare fino a marzo però quando uno l'ha già presa la decisione non c'è astrologia che tenga poi ognuno di noi prende del transito di quell'energia quello che desidera quindi aspettiamo il 23 di ottobre se potete quando saturno tornerà diretto quindi ragazzi godetevi questi bei pianeti un po incasinati ma soddisfacenti e divertitevi anche per noi un grande bacio passiamo agli amici del cancro dell'ascendente cancro cari amici del cancro e cari amici con l'ascendente cancro questa settimana si sbloccano un paio di cose un paio di situazioni interessanti soprattutto il settore relazioni cause processi firme le questioni legali le questioni anche relazionali si sbloccano ovviamente è un inizio sentirete proprio l'energia che cambia finalmente la macchina che si era inceppata a maggio no perché ci sono stati da maggio molti rallentamenti rallentamenti nonostante grandi spinte grandi energie no per per cambiare le cose per concludere situazioni per per sostituire il vecchio al nuovo insomma è stato molto l'energia è stata molto lenta questa settimana si sblocca plutone torna diretto e quindi inizia a muoversi e contemporaneamente c'è una bella luna piena in ariete che per quanto scomoda perché dopo tanta stasi adesso darà tanta di quell'energia ai vostri obiettivi che dire che dovrete uscire dalla zona di confort e poco nel senso che prima vi siete quasi sentiti soffocare dalle sabbie mobili niente si muoveva niente cambiava nonostante gli sforzi adesso con questa luna piena in ariete del giorno 9 potrebbe arrivare tutto insieme potrebbe arrivare tutto insieme e addirittura ci sono delle novità così forti che potreste dover lasciare il nucleo familiare per raggiungere un obiettivo che è come se si fosse spostato un po no che come se vi chiamasse da lontano quindi settimana anche di grandi decisioni e diciamocelo pure settimana di grandi indecisioni perché perché veramente come se si creasse un equilibrio da trovare non è come se si creassero due realtà una verso il nuovo che vi porta lontano dal nucleo familiare che sia il luogo di origine che sia la famiglia che avete creato che adesso non mi soddisfa più che sia una casa che sia un immobile che sia una semplicemente un trasferimento di lavoro che poi semplicemente è ovvio che mette in tutta una rivoluzione di equilibri fatto sta che qui sembra che ci sia come prospettiva proprio quella di uscire dal dal guscio dalla zona di comfort anche ragazzi temporaneamente ok è giusto una fase temporanea però questa settimana arrivano notizie per cui insomma bisognerà trovare un equilibrio voglio dirvi voglio dirvi che sicuramente questa settimana e la prossima con tutti questi pianeti in bilancia opposti alla luna piena in ariete possono essere sballottolanti nel senso che non sono proprio tranquillissimi un giorno c'è una quiete un giorno c'è magari no tanta tante cose da fare come se fossero borderline però dal 23 tutta una serie di pianeti prima la venere poi il sole poi il 29 mercurio io lo dico per assicurarvi andranno nel segno dell'amico scorpione nonché giove fantastico pianeta della grande fortuna in retrogradazione entrerà nell'amico segno dei pesci quindi avrete quattro pianeti a favore quindi parigi val bene una messa saranno un paio di settimane incasinate ma poi si sblocca tutto le cose iniziano a ripartire quindi adesso bisogna prendere delle sicuramente ragazzi delle decisioni se state aspettando per firmare dei contratti sia lavorativi che ragazzi cose legali processi acquisti sicuramente le giornate tra il 23 il 25 il 29 saranno strepitose soprattutto risolutive anche in famiglia però bisogna prendere come se bisognasse prendere delle decisioni o comunque c'è qualcosa in famiglia che è legato agli affetti ai fratelli ai figli insomma c'è un momento di indecisione restare o partire è probabile che per cancro ascendente cancro qualche qualche familiare oltre a voi perché la cosa potrebbe riguardare sia voi sia altre persone del nucleo familiare anche il partner volendo visto che la luna piena in ariete è opposta alla bilancia però insomma se non siete voi qualcuno magari per questione anzi molto probabilmente per questioni lavorative sta pensando di allontanarsi no di trasferirsi o comunque anche per ragioni di studio di andare fuori per per lavoro e quindi le prossime due settimane saranno andare stare venire insomma saranno abbastanza incerte vi ripeto dal 23 anche quando saturno tornerà diretto si sbloccheranno ci saranno delle svolte molto molto veloci per fortuna alla fine del mese è meno meno incasinata ok e meno incasinata ovvio che quello che succede in queste settimane già la luna piena in ariete i pianeti in bilancia fanno parte del vostro gruppo di pianeti che sono del vostro gruppo di segni zodiacali che sono i segni cardinali ariete cancro bilancia e capricorno è l'asse che si questa settimana è interessato è quello perché plutone torna diretto dal capricorno la luna piena in ariete è fortissima i pianeti in bilancia opposta alla luna ci sono mancano soltanto i valori del segno del cancro che cosa significa i segni cardinali se voi ci fate caso sono i segni collegati al cambio di stagione cioè sono tutti i primi segni di una stagione la riete segna la primavera il cancro entra insieme all'estate la bilancia con l'autunno e il capricorno con l'inverno cosa significa che hanno la forza del cardine cioè quando succede qualcosa sotto l'energia di questi quattro segni cambiano le cose perché sono proprio i segni che hanno l'energia deputata a cambiare il mondo cioè a cambiare le situazioni ok quindi quindi è probabile che le novità portate da questa dalla luna piena in ariete adesso possa i pianeti in bilancia porterà o voi o qualcuno della vostra famiglia magari ad abbandonare il nucleo oppure a vendere una casa a comprarla cioè non cose la vacanza no come ho detto per il segno precedente per i gemelli non la la vacanza però invece no cambiamenti sensibili vendita di casa cioè cose grosse cose che cambiano la realtà delle persone che cambiano il patrimonio quindi trasferirsi all'estero qualcuno che si sposa a conoscere la persona della vostra vita e andare a convivere insomma quello che accade questa settimana dovrebbe fare da cardine per novità che cambieranno la vostra vita anche se non ve ne accorgerete adesso da fine mese con ben quattro pianeti a favore tutto quello che accade in queste due settimane che resterà come dire sotto sotto traccia nonostante l'energia della luna in ariete sia potentissima quindi è da vedere cosa rimane sotto traccia però poi si trasformerà in una svolta è chiaro che se una persona perde la testa un colpo di fulmine no cose molto possibili con una luna piena in ariete per un'altra persona oppure se il partner prende un colpo di fulmine no per un'altra persona magari prima di entrare a casa e di mettere in discussione baracca e burattini ci pensa un attimo ecco in questo l'energia della delle giornate del 9 del 10 sfolgorante però metterà in discussione tanti di quegli equilibri che ha bisogno di un paio di settimane per essere riammortizzata quindi se potete no non aderire non partire l'impulso e darvi il tempo dal 23 ottobre avrete il cielo spianato e quindi anche una chiarezza qualora foste indecisi no se doveste passare delle giornate di grande incertezza e dire ma cosa devo fare dal 23 tutto si schiarirà nel giro di una settimana al massimo in maniera progressiva e super armonica quindi che le novità siano con voi lo so che vi spaventano il cancro fatica ad uscire dalla zona di comfort però la vita è cambiamento e quando noi non cambiamo in avanti non è che rimaniamo fermi quello è soltanto l'apparenza in realtà se non andiamo in avanti andiamo indietro quindi involviamo e allora abbracciamo il cambiamento perché se l'universo ce lo manda e ci dà anche il tempo di valutare se una cosa buona per noi ben venga quindi fatemi sapere nei commenti come vanno le cose cercherò di leggerli un grande bacio a tutti e passiamo agli amici del leone dell'ascendente leone cari amici del leone cari amici con l'ascendente leone questa settimana diversi pianeti vanno a favore già la luna piena in ariete è vostra amica tra l'altro vi dà un'energia talmente forte talmente impattante da portare delle grandi novità o rispetto a lontano io credo che alcuni leoni e ascendente leone possano veramente partire non per vacanza ragazzi la vacanza ci sta però essendo una luna in segno cardinale cioè in ariete ariete cancro capricorno e bilancia sono i segni cardinali di solito da inizio a cose che hanno che cambiano l'assetto e l'andamento delle situazioni delle cose in sé no perché i segni cardinali sono quelli che hanno proprio l'energia per cambiare le cose quindi il lontano vi chiama potreste trasferirvi potreste iniziare un nuovo corso di formazione potreste decidere di iniziare a prendere delle competenze quindi a dedicarvi a un ramo della conoscenza completamente diverso oppure se avete rimandato per troppo tempo per i vostri gusti il superamento di qualcosa che vi blocca di una paura di una fobia di un'idea cristallizzata nel tempo anche se non è proprio da voi con questa luna piena potreste infrangere qualche barriera del suono qualche cosa che vi teneva cristallizzati all'indietro quindi grandi upgrade psico emotivi crescita personale e nel contempo questa grande energia di rompente chiede un bilanciamento e un armonizzazione nelle comunicazioni perché come se uno scoprisse cose e poi però dovesse trovare il modo di non dire la brusca realtà no di comunicarlo in una maniera equilibrata perché comunque questa settimana avete ben tre pianeti in bilancia ce li avete anche la prossima il sole venere e dal 10 anche mercurio quindi le scoperte ad un certo punto verranno anche comunicate oppure come quando una persona si laurea perché questo è un'altra delle cose che potrebbero capitare o va all'università e poi magari deve dire al partner che non vuole più fare quella cosa che non vuole stare più in coppia oppure che quel progetto no quel programma di vita cambia oppure se una persona prende delle nuove competenze magari poi al lavoro deve comunicare con una certa diplomazia che si aspetta per esempio un trattamento adeguato alle nuove competenze al nuovo post up insomma dovrete bilanciare la conoscenza il sapere o la voglia di sapere con una realtà preesistente quindi cercando proprio l'armonia nella comunicazione oltre a questo quello che potrebbe accadere è anche quello di fare nuovi incontri parlo di amore amore fortuna insomma cose abbastanza interessanti visto che ripeto capitano in segni cardinali perché anche la bilancia lo è e quindi si potrebbero alterare magari degli equilibri preesistenti e visto che leone ascendente leone hanno anche saturno contro potreste se non l'avete fatto finora se siete riusciti a resistere fino ad adesso potreste mettere in discussione il passato sia lavorativo ragazzi che relazionare per un futuro se volete sapere se il momento è buono io vi con se soprattutto gli incontri che fate questa settimana anche la prossima sono buoni il consiglio delle stelle anzi il mio che faccio di tutto un mix è magari di dare il tempo alle cova a voi di essere spettatori dell'andamento delle cose fino almeno a natale quando giove in ariete a vostro favore ritorne giove ritornerà in ariete a vostro favore perché per due mesi tornerà in pesce quindi vi confonderà un attimino le idee e quindi io direi che con l'anno nuovo il leone si può pronunciare ovviamente ci sono tanti incontri non soltanto di natura sentimentale ovviamente ragazzi voi avete marte favorevole marte in gemelli che però vi potrebbe non solo portare ad andare avanti e indietro da un posto all'altro quindi darvi un periodo abbastanza movimentato sia a livello di situazioni culturali cioè come se doveste come se frequentasse due situazioni nelle quali vi state acculturando e il doveste come dire armonizzare mettere insieme ma anche quindi oltre all'unione di due mentalità anche probabilmente a nuove conoscenze che vi stuzzicano sentimentalmente insomma il leone molto stuzzicato sotto questo punto di vista vi ripeto aspettate sempre prima di lanciarvi o prima di mettere in discussione cose aspettate sempre natale che è meglio se siete in particolarmente insoddisfatti delle vostre situazioni sia lavorative che matrimoniali sentimentale proprio relazionali che negli ultimi cinque mesi sembrano essere ulteriormente peggiorate sappiate ve lo anticipo che settimana prossima il giorno 23 saturno che tanto vi fa penare e che negli ultimi quattro mesi il cielo si è mosso favorevolmente ma saturno ha appesantito un po perché è stato retrogrado sappiate che c'è una buona notizia che vi anticipo per la prossima settimana saturno tornerà diretto per sempre cioè finché a marzo uscirà dal segno del dell'acquario quindi fino alla fine dell'opposizione non sarà più retrogrado quindi questo significa che le pesantezze le lacerazioni e gli ostacoli dovrebbero essere definitivamente terminati ok quindi come si dice questa settimana e la prossima sono tutto sono sono il grosso è chiaro che però ognuno arriva in una maniera diversa alle alle situazioni c'è chi vive relazioni e situazioni lavorative che possono che hanno ancora linfa vitale che possono ancora andare avanti e c'è chi è arrivato e sa già che non non riesce più a sopportare e a stare dove sta e in quel caso miei cari amici a partire da fine mese anche per voi quando saturno tornerà diretto per tutta una serie di lune e di pianeti che usciranno dal segno della bilancia arriverà il momento di mettere di mettere in pratica quelli che sono i vostri sogni comunque questa settimana avete belle soddisfazioni lavorative oltre che incontri sentimentali gratificanti dal 10 un momento molto bello per comunicare ragazzi per chiedere cose per se avete se dovete chiedere qualcosa a qualcuno se dovete inviare dei curriculum questo sembra essere veramente un momento d'oro a livello proprio di carriera bisogna aspettare il 2023 al livello di carriera cari amici del leone anche se da natale il cielo cambia le prospettive iniziano ad essere proprio tangibili e vedete la fine proprio per affinché possiate sedervi e brindare è probabile questo non vale per tutti perché dipende dal tema natale ciascuno di noi però è probabile che bisogna attendere che urano torni diretto quindi a gennaio 2023 ma avete un cielo talmente bello avete un cielo talmente bello anche grazie a giove che ci arriverete volentieri e anche abbastanza velocemente l'autunno e l'inverno per voi sono decisamente meglio dei precedenti quindi molto molto più soddisfacenti godetevi questa settimana che gli incontri di amore di bellezza di viaggi di cose interessantissimo e aspettate che saturno torni diretto il 23 un grande bacio e passiamo agli amici della vergine e dell'ascendente vergine cari amici della vergine cari amici con l'ascendente vergine per rinascere ci vuole coraggio e questa settimana la luna piena del 9 in ariete un segno cardinale che dà che ha la potenza di dare inizio ad una nuova vita e ad una rinascita a 360 gradi un po da tutto come se rinasceste nudi comunque liberati anche dal karma familiare visto che anche plutone quel giorno diventa diretto quindi ha smesso di lavorare in particolare in zone d'ombra e quindi l'energia è fortissima ma ragazzi richiede che voi abbiate un grande coraggio una grande decisione per uscire dalle situazioni di comodo dalle situazioni legate alla vanità all'ego anche da una serie di accomodazioni di giustificazioni che voi date a voi stessi ok la luna piena in ariete si oppone a i pianeti in bilancia alla venere al sole e dal giorno dopo il 10 anche mercurio sarà in bilancia quindi probabilmente vi troverete a confrontarvi confrontarvi con qualcuno o ragazzi con voi stessi non conosco il vostro grado di solitudine però riguardo alle questioni sentimentali ea quello che è giusto fare rispetto al senso di giustizia o quello che è giusto fare rispetto al senso di comodità quindi questa sarà una grandissima svolta un grande esame di coscienza e richiederà un grandissimo atto di coraggio ma d'altra parte si riparte soltanto così come ho raccontato nel video di plutone sia il video diretto che plutone l'ultimo che uscita un paio di giorni fa sia quello che era uscito vergine e ascendente vergine stanno lavorando grazie a plutone che negli ultimi cinque mesi è stato retrogrado su correttezza etica e il rigore nelle situazioni d'amore proprio nel modo di vivere i sentimenti rispetto ai figli quindi magari l'etica l'insegnamento anche a chi cerca di averli a tutti i costi no e invece magari proprio non ci sono ecco forse c'è un percorso interiore che bisogna fare o forse il destino ha deciso altro lo so che sono parole molto forti però può accadere che ci siano no che ci sia una sorta di accadimento che dura anni può essere che vi troviate anche a riflettere senza risultati ovviamente e nel momento in cui si crede ad un volere supremo magari può essere il momento di chiedersi come mai se magari il lavoro più che all'esterno deve essere interiore per segnare uno scatto quindi proprio una il rigore l'etica e come funzionano veramente affinché vadano bene le cose in amore rispetto ai figli e rispetto anche al modo di divertirsi ok a seconda del vostro ecco a seconda dell'ambito nel quale magari vi siete sentiti trattenuti soprattutto negli ultimi cinque mesi o volendo fare un discorso più lungo guardando a partire dal 2008 ad oggi uno di questi tre settori può essere stato quello più più delicato quello che ha dato più problematiche ed era plutone ragazzi era plutone che probabilmente dal 2008 ad oggi vi ha portato una sorta di solitudine alla fine che potrebbe essere sembrata sfortuna c'è proprio un eccesso di severità di energia proprio di severità di nettezza di spartanità per quanto riguarda le questioni d'amore la spensieratezza e i divertimenti e per quanto riguarda magari l'educazione o la nascita dei figli quindi l'esperienza della genitorialità dal giorno 9 contemporaneamente plutone che sta lavorando in quei settori proprio perché capiate voi come tutti quanti noi che cosa è giusto e che cosa non è giusto in amore con i figli nel modo di divertirsi proprio quel giorno c'è una ripartenza quindi è proprio una ripartenza nel settore della rinascita quindi è probabile che venga da lì la nuova consapevolezza no venga dal settore dove c'è plutone anche perché mercurio il vostro governatore fino al giorno 10 è in vergine quindi è in trono diretto quindi lucidità consapevolezza e come dire non si fa sconti a nessuno perché mercurio in vergine molto concreto e molto logico e molto razionale ed è trigono a plutone quindi avete nelle ultime ore di plutone retrogrado la perfetta comprensione di qualcosa di etico di rigoroso di dove sono stati gli errori fatti in passato e dall'indomani ripartenza una ripartenza dettata da questa luna cardinale potentissima come se dentro di voi l'autunno portasse una primavera vi liberate di qualcosa vi dovete dare il tempo o di comunicare questa cosa perché i pianeti in bilancia richiedono delle tempistiche come se doveste attendere un paio di settimane circa o per quanto riguarda questioni legali o per quanto riguarda questioni legate alla coppia quindi voi vi liberate di qualcosa di un'idea di una situazione di un'energia vecchia fuffa stanti decidete di ripartire e dovete aspettare per comunicarlo o anche se lo comunicate magari ci sono dei tempi tecnici quindi se vivete con qualcuno qualcuno può dirvi che dammi il tempo di trovare casa oppure trova casa tu oppure se volete liberarvi di qualcosa un lavoro ragazzi una casa un immobile qualsiasi cosa è chiaro che no affinché ciò avvenga con i pianeti in bilancia fino al 23 ottobre c'è la necessità di pazientare un attimo di bilanciare per aspettare no per rispettare determinate tempistiche quindi questa è la cosa ovviamente da queste nuove consapevolezze scaturiranno nuove dimensioni nuovi rapporti nuovi amori si apre una finestra temporale molto interessante per l'ascendente vergine sia per quanto riguarda le relazioni sia per quanto riguarda il lavoro e i contratti da firmare che arriverà il 28 di ottobre e terminerà il 20 dicembre quindi due mesi invece per il segno della vergine ci saranno un paio di mesi con l'opposizione di giove di confusione di emotività di sentirsi un po persi se dovessero oppure anche di non riuscire a controllarsi di non riuscire a contenere i propri bisogni emotivi e la propria emotività se dovesse succedere questo vuol dire che l'opposizione di giove in pesce a nettuno vi sta rimandando una parte della vostra emotività che ancora fuori controllo che non è stata ancora lavorata e che ovviamente richiede che ci si che che si intervenga su e questo probabilmente accadrà da marzo 2023 quando saturno inesorabile nel segno dei pesci no se uno lo fa prima saturno signore del karma anche del tempo e severo maestro chiederà responsabilità e attenzione e correttezza e regole e rigore in quel settore quindi per la vergine più che per l'ascendente vergine potrebbe esserci un periodo di così di confusione il lavoro va sempre abbastanza bene c'è un grande movimento forse un indecisione fra due per una situazione vecchia fra una situazione nuova la se se dovesse aver perso il lavoro e se fosse della vergine e quindi dal 28 ragazzi si dovesse aprire una fase di non lavoro quindi licenziamenti e cose del genere è probabile che con le lune di novembre vi venga da andare lontano da partire però insomma adesso questo lo valuteremo fatemi sapere nei commenti cerco di leggerli che cosa che cosa vi portano questa settimana e la prossima perché insomma la prossima sarà anche conseguenza di questa e poi si valuterà però ricordate per rinascere ci vuole coraggio e ci vogliono radici solide affinché ci si possa andare lontano come gli alberi altissimi quindi con fronde altissime con un tronco altissimo ma le radici che tengono alla base l'albero sono sempre solide e quindi fanno da perno affinché una persona non si perda nei meandri della vita ok e imparate sempre ad ascoltare il cuore il cuore perché lì c'è l'unione tra testa e pancia ragazzi buona rinascita un grande in bocca al lupo per questa luna che è veramente catartica e che segna uno spartiacque scrivetemi nei commenti come vanno le cose e passiamo agli amici della bilancia e dell'ascendente bilancia cari amici della bilancia cari amici con l'ascendente bilancia innanzitutto buon compleanno siamo nel vostro mese il 23 il sole lascerà definitivamente per quest'anno il vostro segno per rientrarci a settembre l'anno prossimo quindi siete nel periodo dell'anno in cui il sole ritorna su se stesso il sole è ovviamente la stella su cui illuminare intorno al quale gira insomma tutto l'oroscopo e il sistema notare sul sistema solare quindi per chi capitasse per la prima volta su questi video sappiate che i dieci giorni prima del compleanno e dieci giorni dopo quindi quelli che tecnicamente prevedono il ritorno del sole su se stesso con la congiunzione scarto di dieci gradi prima e dieci gradi dopo sono tre giorni più sensibili di tutto l'anno perché dettano il trend in base ai pianeti che il sole trova quando ritorna su se stesso dettano il trend dei 65 giorni che verranno quindi cercate con questa bella venere in bilancia la con la luna nuova che c'è stata il 25 il 10 questa settimana anche mercurio le notizie gli incontri torna nel vostro segno cercate di stare nella pace nell'armonia nonostante la luna in ariete perché c'è una luna piena in ariete allora per tranquillizzare tutti bilancia la luna piena nel compleanno di ciascun segno è sempre opposta al segno quindi più o meno a tutti capita di compiere gli anni con la luna piena opposta che quindi segna una come dire i cambiamenti che poi avverranno si concretizzeranno si materializzeranno nel corso dei 365 giorni cosa accade a voi soprattutto se siete ascendente bilancia ci sono delle grandissime novità per quanto riguarda le questioni legali le questioni relazionali e ragazzi i processi anche contratti no tutto quello che è ufficializzazione di situazioni preesistenti c'è quindi questa grande novità mentre per e sembra una novità non negativa sicuramente per l'ascendente bilancia vi fa partire una ripartenza in questi settori appena detti relazioni legalità processi avete marte a favore avete saturno a favore quindi c'è crescita se siete single per esempio vista la presenza di marte cari ascendente bilancia nel in un settore molto interessante comunque a favore saturno in quinta l'amore se siete single l'amore riparte alla grande quindi ci sono degli incontri importanti se non siete single ma c'è stato un periodo di maretta questa luna è molto positiva però è ambigua nel senso che potreste decidere di affrancarvi da cose che non hanno più motivo di esistere e potreste invece ripartire con grande slancio perché il cielo è talmente equilibrato che poi siete voi con il vostro libero arbitrio a decidere dove far prendere l'ago della bilancia sicuramente soprattutto l'ascendente bilancia nel settore sentimenti sta trascorrendo da due anni due anni e mezzo a questa parte una grande fase di rivaluta di valutazione rivalutazione anche sofferenza anche assenze di amore insomma un periodo molto impegnativo che quindi state anche cercando di capire se i sentimenti che provate sono autentici se il partner via ma ancora insomma è un momento di verifica per quanto riguarda invece la bilancia ragazzi la bilancia convenere in bilancia in questa settimana si trova io la immagino no nel suo habitat naturale quindi immersa rilassata bellissima in panciolle magari no e in mezzo agli in mezzo all'amore piena di corteggiatori nella vanità piena di su diego di su di bellezza se siete dei creativi state creando se siete i figli dell'amore che bilancia mano sedurre avete tante gratificazioni oppure siete innamorati e quindi state vivendo un momento bellissimo e però c'è questa luna piena opposta al vostro sole e alla vostra venere e alla venere che è congiunta quindi l'amore degli affetti al segno della bilancia che indica una fase in cui c'è una uno strappo ragazzi una partenza un un perdere un pezzo un dover ripartire mettiamola così senza qualcuno o anche ragazzi senza un'idea senza senza qualcosa no è come se accadesse qualcosa per cui vi sentiste un po un po soli un po separati da da quel da quella dimensione di amore e di benessere che nelle settimane nelle giornate precedenti state vivendo questa separazione cioè questa strana rinascita da soli ragazzi che può passare verso gli affetti verso i sentimenti voi mettete una persona che ha una cotta per qualcuno e sa che quello il fidanzato sposato si sposano potrebbe essere una cosa così potrebbe essere un fulmine a ciel sereno o potrebbe essere se state indugiando troppo in situazioni in cui vi siete veramente appesantiti imbolsiti e non state dando il meglio di voi mentre la vita per voi riserva altro allora può essere una bella svegliata ok un risveglio proprio per il segno della bilancia questo vale anche per la luna in bilancia un risveglio un risveglio una scoperta un nuovo inizio sicuramente diverso dalla fase nella quale eravate prima quindi ripeto può essere una nuova relazione una nuova passione un nuovo lavoro insomma vi cimentate con qualcosa di molto stimolante con qualcosa di marziano e con qualcosa di nuovo che ovviamente vi porta in nuove dimensioni ok che possono essere nuove dimensioni sentimentali oppure se siete dei creativi potreste avere nuove vie nuove passioni per la creazione potreste avere delle svolte legate ai figli sia che ne vogliate avere li volevate avere non li volete avere li volete ce li avete qualcosa legato ai figli a loro e anche ragazzi qualcosa legato alla cultura a lontano alla conoscenza e al superamento di limiti di preconcetti di pregiudizi e di idee no proprio a livello psicologico quindi c'è una crescita c'è una grandissima crescita che tocca questi settori alcuni di voi potrebbero prendere la palla al balzo mollare tutto non lo so quanto la bilancia lo faccia magari sia dieci pianeti in bilancia no magari se altri pianeti potrebbe farlo potreste mollare tutto è veramente partire per un progetto magari a tempo determinato e lasciare un po la situazione di stasi che avete e poi tornare rinnovati un'altra un'altra cosa che si sblocca un altro dei settori non soltanto quello dei figli non soltanto quello come dire delle relazioni o dei contratti un altro dei settori oltre a questi che si sblocca ragazzi è quello della famiglia gli immobili responsabilità diritti e doveri c'è qualcosa c'è qualcosa legato al potere al possedimento alle istituzioni magari qualcosa legato ai genitori che negli ultimi cinque mesi vi ha fatto fare delle valutazioni approfondite anche molto severe plutone è stato retrogrado dal primo maggio e tornerà diretto proprio il giorno della luna piena quindi indica che questa coincidenza è chiara indica che la ripartenza parte anche da lì per quello ho detto che potevate andare lontano ok perché se ci fate caso tutte le cose che ho detto il partner i figli comunque tutti fanno poi alla fine un punto di riferimento all'ambito famiglia quindi che sia immobili che sia familiari lo sblocco parte da lì riparte qualcosa ripartono delle novità forse dovete sistemare delle cose forse ci sono delle questioni ereditarie ragazzi plutone indica anche situazioni da sistemare legate a vecchie di partite che magari non vi eravate mai trovati a no ad affrontare questa è una settimana in cui quello è un settore che riprende alla grandissima per i figli per l'amore poi proprio il grosso il potersi muove il poter prendere decisioni per quello bisogna aspettare il 23 ottobre quindi l'ultimo giorno del vostro vuol dire compleanno del vostro solo in bilancia quando anche saturno finalmente tornerà diretto quindi ragazzi cercate di godervi cose il sole in bilancia sappia che ci sono delle provocazioni ci sono delle cose all'esterno che possono lasciarlo un attimino no basito sorpreso però il cielo è talmente carino che andrete lontano anche grazie a questa novità quindi ragazzi fatemi sapere che cosa accadrà perché sono molto curiosa un grande in bocca al lupo e passiamo agli amici dello scorpione e dell'ascendente scorpione cari amici dello scorpione cari amici con l'ascendente scorpione questa settimana la luna piena del 9 in un segno molto marziano cioè nel segno principale nell'altro segno col quale condividete il governatore che il pianeta marte quindi una luna in ariete scombussola la vostra realtà il vostro quotidiano e da vita a tutta una serie di cambiamenti ragazzi grossi che da qui a un po di tempo da qui magari ai giorni del vostro compleanno avranno iniziato una trasformazione che cambierà non dico tutta la vostra realtà ma grandi cose ragazzi grandi cose l'unica cosa come dire a cui vi suggerisco di prestare attenzione anzi le due cose a cui vi suggerisco di prestare attenzione sono una ragazzi la salute state attenti agli eccessi alle cose troppo pericolose nel giorno intorno alla luna piena no alle rabbie perché insomma soprattutto l'ascendente scorpione alla luna piena nel settore salute e quindi come dire potrebbe se non è molto equilibrato se non è in una fase di grande equilibrio della propria vita potrebbe non dico mettere al repentaglio però come dire esporsi ragazzi esporsi a situazioni così estreme un po di pericolo quindi siate saggi e siate prudenti visto che la luna piena il giorno 9 coincide diciamo cioè nello stesso giorno una luna piena marziana vede un altro fenomeno astrologico che vi riguarda principalmente cioè il moto diretto di plutone che è il vostro secondo governatore perché voi siete i figli di marte e di plutone e il giorno 9 plutone torna diretto e la luna si fa piena in un segno marziano quindi è il doppio sprint cosa significa che lo scorpione riprende vita no riprende dopo tanti mesi di stasi ok quindi l'energia che vi arriva sarà fortissima sarà impulsiva sarà dirompente e finalmente questa volta potrete muovervi perché anche plutone quindi attenti agli eccessi perché immagino che sarete come gli affamati no come gli assetati che sono stati nel deserto soprattutto negli ultimi 45 mesi probabilmente da maggio dal primo maggio la la situazione si è fatta ulteriormente appesantita per non parlare dei mesi di luglio e agosto che credo correggetemi se sbaglio abbiano segnato il clou proprio il clou della tensione e della difficoltà a mantenere in essere determinati equilibri quindi adesso riparte tutto siete come degli assetati avete dato tanto vi è stato tolto molto quindi lo so che non è facile che la voglia di vita la voglia di rivalza sia tanta però attenti agli eccessi no soprattutto per quanto riguarda il settore salute altra cosa se siete se avete qualche attenzione al lavoro e io mi chiedo chi non ce l'abbia però se visti i transiti no che avete avuto sul vostro cielo se avete delle situazioni nelle quali avete dovuto abbozzare parecchio sopportare parecchio attenti nelle giornate della luna piena quindi intorno all'otto a agli eccessi cioè attenti a non sbroccare quindi andateci preparati no perché magari potrebbero poi potrebbe crearsi come dire un momento così conflittuale che poi non tutti siamo uguali c'è chi si prende cura della propria interiorità c'è chi no e quindi quando non riusciamo a gestire la nostra macchina emotiva con una piena con una luna piena in ariete in un contesto già difficile possono esserci gli eccessi ok quindi la prudenza io queste queste cose questi avvisi questo invito alla prudenza dovevo per coscienza dovevo darcelo e adesso invece passiamo alle cose belle ed interessanti plutone che il vostro governatore diventa diretto soprattutto per l'ascendente scorpione per quanto riguarda gli incontri e le notizie quindi se state aspettando risposte se avete mandato curriculum se dovete fare incontri ragazzi è un momento molto carino molto positivo la macchina si risblocca inizierete a come dire a riavere contatti sani con il mondo per non parlare poi delle giornate degli ulteriori miglioramenti che seguiranno per voi nelle giornate tra il 23 il 25 il 28 dove avrete ben quattro pianeti a favore per quanto riguarda lo scorpione non l'ascendente scorpione fascino potere personale capacità seduttive riprendono se eravate stati un po in stand by e quindi iniziate come dire vi sentite meglio proprio vi sentite meglio se c'è stato un dolore se c'è stato un lutto se c'è stata una separazione se c'è stato un momento di crisi dal giorno 9 io mi sento di dirvi che inizia la vostra vera guarigione e nel giro di circa due settimane voi proprio nelle giornate del vostro compleanno voi vi risentirete davvero rinati ragazzi davvero rinati e poi sarà un crescendo sarà uno strepitoso crescendo voi avrete giove o po giove in trigono favore quindi preparatevi a giocare responsabilmente preparatevi ad avere tanto amore tanta fortuna a giocare con consapevolezza quindi a rischiare la fortuna a creare perché sarete più in piena di creatività e voglia di vivere tra novembre e dicembre quindi diciamo che questa settimana riinizia a la vita a muoversi perché vi siete sentiti veramente messi ad un angolo bisogna fare la tara quindi iniziare a rigestire queste nuove realtà ci sarà una grande voglia di per entrambi ascendente sole ripartire come dire con una spinta all'individualismo che potrebbe creare malumori nelle situazioni sia tra gli affetti magari in famiglia che con il partner se avete delle situazioni sentimentali perché la spinta all'individualismo sarà molto forte quindi questo potrebbe passare anche attraverso l'incontro con nuove persone perché ve l'ho detto ci sono delle grandi novità tra novembre e dicembre ed amore che vi inonderanno siate prudenti in queste due settimane perché l'universo vi vi invita a conciliare le novità con la realtà no a darvi un po di tempo per bilanciare per vedere quanto di come dire di reale di concreto c'è in questa spinta in questa novità in questa grande passione portata alla luna piena e quanto invece forse convenga no bilanciare soppesare vedere cosa sia meglio e cosa no quindi se vivete una situazione di non trasparenza di clandestinità allora questa luna piena è ottima per liberarvi definitivamente da quelle situazioni simili alle paludi no alle paludi veramente dove non cambia mai niente voi siete prigionieri di sentimenti e promesse che non si mantengono approfittate di questa luna piena per riprendervi la vostra vita perché sono tali le gioie che avrete nelle giornate dei vostri del vostro compleanno che sarebbe un peccato sprecarle ripeto in queste paludi di comodo ma comunque di concreto hanno poco che hanno una vita soltanto nelle retrovie dico questo perché in base a quello che mi scrivete è una situazione comune a tutti e in questo momento se volete tocca a voi ad affrancarvi quindi ragazzi la vita riprende riprende alla grande avete dato abbastanza potete tirare remi in barca adesso dovrebbe arrivare vento di bonaccia quindi un grande in bocca al lupo fatemi sapere come vanno le cose cercherò di leggervi nei commenti e passiamo agli amici del sagittario e dell'ascendente sagittario cari amici del sagittario e cari amici con l'ascendente sagittario questa settimana con questa bella luna piena in ariete e il giorno 9 nello stesso giorno plutone che torna diretto mi sa tanto che ripartite da voi è già da un po di tempo dal 20 agosto lo sottolineo per chi capitasse per la prima volta su questi video che il sagittario e l'ascendente sagittario sono un po stressati l'ascendente sagittario stressato nelle relazioni e nei contratti lavorativi stressato perché oa un periodo di polemica con il partner o con i datori di lavoro con i colleghi o perché c'è incertezza in quel settore no quindi o lui o il partner o lui il datore di lavoro sono indecisi se confermare questa situazione oppure no il sagittario normale è stressato per tutta una serie di problemi si sente attaccato può aver perso qualcuno nelle scorse settimane già ad agosto proprio perso come allontanamenti può essere entrato in polemica può sentirsi solo può essersi lasciato dal partner è proprio un momento in cui il sagittario si sente un po down diviso fra un paio di situazioni stressanti magari sta facendo su e giù con la macchina magari per una questione di lavoro comunque l'energia è bassa e quindi a 360 gradi è in generale il sagittario è stanco ok la stessa luna in sagittario si sente provocata no permettere sta cercando di unire varie volontà ha cercato di conciliare però probabilmente illuminare quindi il sole la luna in sagittario sentono di essere molto affaticati no e la situazione in salita e hanno perso qualcosa poi dipende dal resto del tema natale per vedere questa settimana due buone notizie 1 la luna piena in rieto e lo abbiamo già accennato la scorsa settimana porta una grande botta di vita grande botta di vita di vitalità di entusiasmo finalmente ragazzi è come se per alcuni di voi soprattutto per il sagittario potrebbe interrompersi questa situazione di stress duale almeno temporaneamente e ricrearsi una situazione di pace no e di clima che durerà per un bel po' quantomeno fino a fine mese ok quindi potrebbe crearsi un una bolla una bolla di di pace di benessere di stasi forse riuscite a fare un viaggio si sa che il sagittario si ricarica tantissimo con esperienze o sportive o legate alla conoscenza l'erudizione alla scoperta o ai viaggi forse riuscite a ritagliarvi un momento per voi no fuori stagione che possa darvi questo c'è anche un buon incontro questo vale sia per il sagittario che per l'ascendente sagittario la luna piena in ariete molto passionale parlante la vostra stessa lingua mi può portare in questo periodo di stress e forse volendo ragazzi in mezzo a due partner che vi hanno creato tensione o datori di lavoro situazioni di lavoro insomma che vi hanno stressato potrebbe portare una new entry un momento di passione un ritorno ragazzi troppi pianeti retrogradi per pensare che si possa trattare soltanto di una persona nuova è probabile che tornino che ci siano dei ritorni insperati fatto sta che se ci sono due che ne sono due frequentazioni che non vi danno soddisfazione fra i due litiganti il terzo gode insomma c'è un momento di grande passione di grande fortuna di grande energia di grande intensità di ripartenza e di vita in questi due mesi così stressanti la vita quindi una grandissima ripresa ci sarà sicuramente da barcamenarvi fra delle situazioni no di contesto delle situazioni ufficiali delle situazioni di comodo delle situazioni legate alle abitudini e queste novità quindi ci saranno nelle prossime due settimane un bilanciamento no c'è questa bella novità piacevole e così il pensare un attimo al da farsi ea cosa scegliere quindi se continuare col nuovo in qualsiasi di qualsiasi cosa si tratti ragazzi o se mantenere il vecchio le tensioni in ambito relazionale continueranno l'ambito relazionale illegale o contrattuale continueranno fino a marzo perché marte in dissonanza è presente però cambia il cielo cioè cambiano le condizioni questa luna piena segnerà sicuramente uno spartiacque positivo e dei punti a vostro favore in questa che è come dire una sorta di partenza di partita della vita ok sicuramente questa luna vi darà un grande sprint soprattutto se avete mettete delle cause no oppure delle situazioni un concorso delle sfide con questa luna piena sicuramente guarda guadagnerete dei punti a vostro favore lavorativamente parlando e proprio in generale comunque fino all'anno nuovo è tutto un po così in fase di rivalutazione però i grandi cambiamenti per i grandi cambiamenti bisogna aspettare il questo ve lo anticipo già il secondo ritorno di giove in ariete perché dal 28 questo ve lo anticipo perché visti i transiti dal 28 giove tornerà nel segno dei pesci per ben due mesi riporterà a galla delle situazioni legati alla famiglia e agli immobili per l'ennesima volta cose che probabilmente avete già affrontato nei primi cinque mesi del 2022 o tra maggio e luglio del 2021 e ovviamente questa cosa si ritorna per essere risolta nuovamente e questa volta ci sono tutta una serie di pianeti in scorpione che porteranno il cambiamento perché i primi a scoprirsi cambiati rispetto a queste vicende che tornano siete voi ok quindi tutto quello che è successo nel frattempo anche tutte le pesantezze anche tutti questi pianeti retrogradi uniti a marte opposto che vi hanno assolutamente sfidati sono serviti sono stati utili per quella che poi è la finalità del cielo quella di farvi cambiare e voi vedrete che quando ritorneranno queste cose sarete cambiati voi e affronterete la situazione in una maniera completamente diversa nell'esatto momento in cui già adesso in questi giorni già dal 10 con mercurio a favore in bilancia riuscirete ad avere una comprensione proprio della giustizia della cosa giusta non del tornaconto personale che vi apriranno una nuova frontiera proprio dei nuovi punti di vista e vedrete nel momento esatto in cui cambierete voi anche questa situazione che ritorna che vi è sembrata a metà fra il sogno e l'incubo che via che anche per voi ha segnato un po una palude da cui non siete riusciti ad uscire questa volta potrebbe risolversi veramente facilmente felicemente a patto che cambiate voi a patto che abbiate una comprensione diversa e una visione diversa della cosa tutto quello che riguardo alle famiglie riguardo agli immobili ritorna poi avrà una sua perfetta conclusione proprio sancita dalla legge dallo stato dal tempo a partire dal 2023 ok però saprete già tra novembre e dicembre come come è andata a finire quindi si prospettano dei dei grandi cambiamenti per quanto riguarda la location quindi luogo dove stare la famiglia e gli immobili che parte che si anticipano adesso e vedranno una concretizzazione nel 2000 nel 2023 quindi buone novità anche per quanto riguarda un progetto un progetto molto interessante creativo riguardo alla bellezza alla passione alla moda al cinema che state acquistate lavorando in questi in questi giorni che potrebbe darvi grandissime soddisfazioni soprattutto a partire dal 23 di ottobre quindi ragazzi sicuramente periodo intenso ma pieno di soddisfazioni e ricco di sorprese fatemi sapere nei commenti come vanno le cose un grande in bocca al lupo e passiamo agli amici del capricorno e dell'ascendente capricorno cari amici del capricorno cari amici con l'ascendente capricorno milla vi ha omaggiato della sua presenza ovviamente appena ho iniziato a registrare il vostro video spero che il vaso resti fra noi e quindi che vuol dire buone notizie buone notizie prendiamola come un amuleto questa gattina nera molto simpatica molto frumosa allora questa settimana come già anticipato nell'oroscopo della scorza plutone diventa il giorno 9 diretto sul vostro sole quindi tutta quella attesa tutta quella pesantezza tutti quei ritardi tutto quel mamma mia che no che che pizza che dal 2 maggio 12 maggio avete causati da plutone retrogrado adesso ovviamente uniti ad una potentissima luna piena in ariete che soprattutto l'ascendente capricorno avvertirà nel settore radici quindi nel luogo in cui vi trovate o per quanto riguarda gli immobili ragazzi porterà una ripartenza o legata alle location legata alla risoluzione di problemi dati dagli immobili o alla famiglia in generale fatto sta che si sblocca qualcosa lo sentiranno principalmente gli ascendente capricorno ma ne risentiranno inevitabilmente anche i nati nel segno del capricorno quindi quindi ci sono delle grandi novità delle grandi novità delle delle potenti ripartenze la luna piena nell'ariete è una luna piena più potente e più sfidante di altre perché avviene in un segno cardinale come il vostro segno il vostro ascendente d'altronde sono i segni cardinali ariete cancro bilancia e capricorno sono i segni che hanno la forza ma proprio che formano un cardine e che danno vita a riescono a cambiare le cose cioè danno proprio vita alle svolte e alle novità infatti segni cardinali se ci fate caso sono quelli legati all'inizio di ogni stagione per esempio il capricorno il capricorno inaugura l'inverno la riete inaugura la primavera quindi c'è una nuova primavera quindi qualcosa che darà vita proprio ad una fase completamente diversa nel settore immobili famiglia potreste ragazzi anche trasferirvi potreste vendere casa potreste potreste comprare casa dopo ovviamente una lunga riflessione magari se state aspettando un trasferimento e se state aspettando di uscire da una relazione oppure finalmente di trovare qualcuno con cui mettere su famiglia tutte queste svolte epocali inizieranno a concretizzarsi al di proprio inizieranno ad essere a esistere con questa luna piena in in ariete e poi ovviamente partire da natale quando giove ritornerà in ariete si inizieranno a vedere i grandi frutti cioè l'ufficialità dallo sbocciare di quello che con questa luna avete seminato quindi la fine delle pesantezze dietro l'angolo ed è legata al giorno 8 al giorno 9 ragazzi scusatemi per quanto riguarda le questioni invece legate alle vostre aspirazioni che possono essere sia di natura sentimentale sia di natura professionale sia legate al concetto di giustizia no vi chiederanno un armonizzazione nel senso che voi avete delle aspirazioni no però con questa luna piene in ariete e come se dovesse temporaneamente metterle in discussione o è come se si presentassero delle nuove realtà dei nuovi inizi che potrebbero chiedervi o di bilanciare il vecchio il nuovo di prendere delle decisioni no proprio di decidere tra quello che c'era prima e quello che c'è adesso tra le situazioni ufficiali tra le abitudini ormai prese e consolidate e le le novità che si prospettano ovviamente queste decisioni uno potete prenderle solo voi cioè l'astrologia vi spiega l'energia che si prospettano però in base alla vostra coscienza in base al vostro libero arbitrio siete voi che decidete vecchio un uomo ok questo è solo appannaggio il consiglio allora le stelle dicono che comunque questo è un anno in cui fino a maggio 2023 cioè fino a quando giove resterà nel segno dell'ariete si chiuderanno dei cicli iniziati nel 2011 o nel 99 o nell'87 vi giuro che vi metto dovunque su instagram su su facebook e anche nei post qui di youtube vi metto i cicli di giove in ariete e anche in pesci perché adesso anche voi avrete il ritorno i giovi in pesci quindi le stelle dicono che comunque sarà un anno di svolta di cambiamento per quanto riguarda le location si chiudono appunto cicli iniziati negli anni che vi ho indicato nella famiglia anche il numero dei familiari potrebbero essere nuovo nel senso che arriva qualcuno qualcuno si fidanza qualcuno si sposa i figli no qualsiasi cosa chi viene chi va cioè ci sono proprio di la location i trasferimenti insomma ci sono proprio dei si vende si compra ci sono proprio dei cambiamenti riguardo a questo settore però voi vi sentirete molto più liberi di di muovervi ora che plutone sul vostro sole sul vostro ascendente a libera via liberati dalla presa della retrogradazione ci sarà no tra questo nuovo e questo vecchio una fase di andi rivieni no così di incertezze di bilanciamento di oscillazione che durerà fino a marzo quando anche martin gemelli andrà via poi da marzo 2023 prenderete delle decisioni come dire ufficiali sancite e adesso adesso c'era un'altra cosa che volevo dirvi se mi sta ecco riferita al fatto che dovete prendere delle decisioni nota il vecchio il nuovo non solo avete questi mesi fino a marzo ci sono delle novità che sono legate ad un viaggio oppure ad una notizia o una scoperta un incontro a qualcosa che vi viene riferito o qualcosa che sapete no che vi viene spiegato ci saranno ulteriori e positive novità a partire dal 23 ottobre per una serie di motivi sarà lì che si sbloccheranno le cose che avrete una visione ancora più chiara delle cose quindi ve lo anticipo qualora dovessero esserci delle grandi novità legate a questa luna piena in capricorno e voi no siate così indecisi da non sapere cosa fare qualora poteste no attendere il giorno 23 saturno che il vostro governatore torna finalmente diretto era retrogrado dal 4 giugno quindi pesantezza su pesantezza voi avete avuto sia plutone sul sole ascendente retrogrado che saturno il governatore retrogradi in rapida successione uno è diventato retrogrado a maggio e un primo maggio e un altro il 4 giugno quindi insomma un'estate di tutto rispetto è per quanto riguarda le pesantezze e le cose che non decollavano quindi avrete il vostro governatore che ritorna diretto e lo sarà per sempre finché resterà nel segno dell'acquario quindi bisogno di fino a marzo sarà diretto poi quando in pesci ci sto ci sto preparando dei post dei video ne parleremo ma comunque per voi sarà assolutamente positivo molto più simpatico di questo in acquario sicuramente che ha messo in discussione tante certezze tante cose su cui facevate affidamento oltre a saturno il giorno 23 avrete sole che entra il scorpione che è un amico la luna nuova il 25 scorpione bene il 29 che entra il 23 che entra scorpione mercurio insomma avrete 45 pianeti a favore e giove la grande fortuna che ritornerà in pesci quindi ragazzi è giusto da reggere botta ok in queste due settimane fra il vostro individualismo che mi auguro non facciate sfociare in egoismo e il desiderio insomma agli altri da comunque tenere in considerazione la sfida in queste due settimane implica questo bilanciamento quindi ragazzi presto perché forse coraggio perché presto avrete uno schiarire dell'orizzonte diventerà luminoso questo è quello che conta vi aspetto nei commenti un grande bacio e passiamo agli amici dell'acquario e dell'ascendente acquario cari amici dell'acquario cari amici con l'ascendente acquario questa settimana come già accennato nello scorso nell'oroscopo della scorsa settimana gode dei riflessi di una fantastica luna piena in ariete marziana quindi se avete un combattimento in essere sarete vincitori se avete questioni legali arriva qualcosa di veramente positivo per voi la battaglia è vinta i nuovi inizi partono a razzo e finiscono anche abbastanza bene quindi voglio dire va molto meglio va molto meglio insomma di prima e soprattutto la notizia non è di questa settimana però ve l'anticipo qualora qualcuno di voi perché poi non siamo tutti uguali dipende da quanti pianeti avete in acquario nel tema natale perché si può essere del segno dell'acquario avere l'ascendente acquario ma avere anche la luna in in acquario marte in acquario quindi il blocco maggiore la buona notizia per tutti quelli acquario e ascendente acquario che non riuscissero a incanalare la spinta della luna piena in ariete del 9 che sarà strepitosamente forte però c'è chi dice sì ok sento tutta questa bella voglia di vivere sento questa grande passione ma non quaglio sappiate che saturno il signore del karma nonché vostro governatore che è sulla vostra testa dal 10 marzo 2020 e si è fatto sentire sappiate che saturno diventerà tornerà diretto il giorno 23 ottobre quindi ci siamo quasi e lo sarà per tutto il tempo finalmente rimarrà sempre diretto fino al marzo 2023 quando uscirà definitivamente dall'acquario ed entrerà nel segno dei pesci quindi saturno che un grande esattore che un maestro severo e che dal 4 giugno con la retrogradazione vi ha tenuti così come se avessi avuto una commissione d'esame che chiedeva conto di ogni cosa ok adesso torna diretto viene anticipato da questa luna piena in ariete che vi da un nuovo inizio e una nuova apertura sono nuovi incontri nuove conoscenze e anche una grandissima voglia di dire la verità di liberarsi da catene da situazioni di comodo o da situazioni abitudinarie legate più alle abitudini alle convenzioni che al vostro reale sentimento ok quindi c'è proprio una voglia di debuttare al mondo con nuove sembianze con nuove sembianze e quindi si apre si spalanca tra l'altro voi siete cambiati voi negli ultimi cinque mesi siete cambiati proprio a livello di inconscio proprio a livello di di giustizia di potere di correttezza avete imparato tantissime cose plutone nel segno precedente al vostro che nel 2023 già da marzo entrerà nel vostro segno vi farà fare la rivoluzione copernicana ha lavorato tanto in questi cinque mesi vi ha fatto mettere in discussione un sacco di cose vi ha fatto mettere in discussione tante convinzioni e per liberarvi vi ha fatto anche essere severi con voi stessi tante cose di tante cose vi siete resi conto di tante cose novi adesso avete una chiara visione e quindi quindi il giorno 9 con la luna piena in ariete che vi fa proprio approcciare al mondo dichiarare al mondo cose completamente diverse da prima con una psiche completamente diversa perché plutone torna diretto e quindi la fase di rielaborazione è conclusa plutone tornerà retrogrado soltanto a 2 maggio del 2023 quindi ragazzi c'è veramente tempo e sarà in acquario quindi nel segno del capricorno almeno per quest'anno finito poi ci sarà un'altra retrogradazione quindi le cose che voi avete deciso avete compreso avete scoperto del vostro inconscio sono in una fase di elaborazione avete presente quando il computer è in caricamento con la nuova app al 90 per cento ok ci siete quasi ci sarà giusto un 10 per cento da richiamare nel 2000 tra il 2023 e 24 poi ci torneremo però c'è stata una grandissima maturazione perché è chiaro che per voi che siete acquario e ascendente acquario ma anche luna in acquario questa volta è equiparata anche se plutone il grande trasformatore che sta lavorando nel vostro inconscio nelle vostre memorie nella rielaborazione del passato dovesse uscisse perché uscirà in novembre 2024 voi il grosso lo state facendo adesso perché perché nel cielo si è incrociato sia plutone che saturno e saturno il signore del karma quindi il vostro gioco col destino il vostro prima e dopo la vostra svolta della vita è iniziata il 10 marzo 2020 finisce a marzo 2023 tre anni quindi ci siete quasi il livello di caricamento di maturazione di crescita è altissimo questa settimana siccome c'è una luna piena in ariete e la riete un segno cardinale cioè da inizio alle cose segno della riete infatti da inizio alla primavera i segni cardinali così ad onor di cronaca sono la riete il cancro la bilancia il capricorno che se ci fate caso danno ciascuno essendo dei segni cardinali l'inizio alla stagione quindi la riete corrisponde da inizio alla primavera il cancro all'estate per esempio così via la bilancia apre l'autunno e il capricorno apre l'inverno cosa significa che sono dei segni che hanno la capacità di portare le svolte cioè di spalancare un portale energetico diverso che dà inizio a qualcosa di nuovo gli altri segni sono di consacrazione di sviluppo di bilanciamento ma non hanno questo potere quindi voi non so in che modo questo lo decidete voi con il posto libero arbitro e con questi pianeti che fanno leva sul vostro vissuto personale che è unico ed è legato al vostro alla vostra individualità vi dichiarate al mondo in maniera diversa c'è una grande spinta ripeto all'individualismo ad uscire da situazioni di coppia che non vi soddisfano ci sarà questa fase fino a marzo comunque accompagnata da marte che vi aiuterà a bilanciare un attimo a creare un ponte tra l'inizio e la fine no ma quando saturno lascerà il vostro segno e plutone entrerà il rivoluzionario quello reazionario trovano e plutone veramente cioè da il trasformatore il trasformatore quando plutone entrerà in acquario ragazzi e quando saturno entrerà in pesce e metterà come dire inizierà a spezzare tutte quelle relazioni dalle quali magari verso le quali avevate stabilito una dipendenza ma che a un certo punto insomma saturno il signore del tempo quindi decreta come diceva tortora big bang ha detto stop ok siete in una fase di trasformazione che vi sembra finita vi sembra conclusa e invece cari amici dell'acquario cari amici con l'ascendente acquario e anche per le lune è appena iniziata e sarà lunga questo sarà lunga ma a voi piacciono le rivoluzioni siete dei figli di urano quindi inizia questa settimana so che non vi spaventate insomma ci sarà da divertirsi quindi godetevi questa luna cercate di bilanciare lo so che siete veramente anche voi molto stanchi e quindi la voglia di primavera dispensieratezza ma di vita soprattutto di vita di passione è molto forte però cercate di bilanciare per alcuni mesi affinché dentro di voi si sedimenti la direzione giusta da prendere cercate di bilanciare questa questa novità questa novità dell'anima questa notizia questa cosa che arriva a voi arriva a voi col fuoco di marte della passione ma anche della della lotta quindi poi di settimane così di bilanciamento poi quando saturno 23 tornerà diretto vedremo un po il da farsi un grande in bocca al lupo ci sentiamo la prossima settimana e passiamo agli amici dei pesci e dell'ascendente pesci cari amici dei pesci cari amici con l'ascendente pesci voi rinascete con l'amore voi rinascete a attraverso l'amore questa settimana uno stellium in bilancia composto dal sole in bilancia venere in bilancia e mercurio dal giorno 10 indicano che siete pronti per rinascere attraverso l'amore ma prima ci sarà il bilancio ultimo e definitivo legato alla vostra indipendenza il giorno 9 rappresentato dalla luna piena in ariete che in combutta con plutone che quel giorno diventa retrogrado segnano l'inizio della vostra rinascita rispetto ad un passato ad un passato dal quale probabilmente avete cercato di fuggire magari a partire da capodanno o da maggio giugno e luglio 2021 no qualcosa che avete cercato di dimenticare ma che negli ultimi cinque mesi a partire dal primo maggio dai primi di maggio si è fa è tornato a farsi sentire vi siete messi in discussione di le cose si sono fermate il tempo sembra essersi fermato non vi siete sentiti abili era come la sensazione che avete avuto era quella di aver perso il potere il potere la capacità di trasformare le cose ma soprattutto la capacità di mettere in atto il cambiamento probabilmente la sensazione di alienazione forse vi siete sentiti veramente sospesi adesso c'è una grande ripartenza avete vissuto nel passato negli amori del passato avete vissuto tutte quelle relazioni nelle quali vi siete sentiti sottoposti vi siete sentiti manipolati forse nelle quali avete manipolato anche voi perché non si è mai vittima senza avere una parte da carnefice ok quindi è un gioco forza le persone a volte se siamo in quella dinamica fanno uscire una parte di noi oppure fanno uscire l'altra ma finché quella ambivalenza si verifica c'è sempre questa dinamica che va assolutamente spezzata quindi voi vi siete avete fatto veramente una discesa agli inferi complice saturno in acquario soprattutto per gli ascendenti pesci al nel settore dell'inconscio ma anche per il sole in pesci perché quando saturno quando dei pianeti importanti si trovano nel segno precedente al nostro è lì che iniziano a creare le crepe che poi porteranno il cambiamento la trasformazione quando il pianeta arriverà nel nostro segno ma il cambiamento viene da prima quando arriva nel nostro segno ne prendiamo atto consapevolezza e lo mettiamo in atto quindi una discesa all'inferno nelle memorie profonde una trasformazione cinque mesi non facili che hanno messo in discussione anche la location la famiglia componenti della famiglia ci sono stati dei cambiamenti marta scombussolato anche quello un sentire un andare avanti e indietro una sorta di indecisione c'è stato veramente giove in pesci nei primi cinque mesi di quest'anno con l'anticipo della scorsa diciamo primavera estate 2021 ha spalancato veramente gli abissi dell'oceano ma gli abissi della vostra personalità e voi sapete che nettuno cioè il forcone non tu nel governatore dei pesci e soprattutto data la grande quantità di massa oceanica d'acqua legata al vostro segno voi sapete che negli abissi della terra ci sono ancora i mostri cioè l'unica parte del del pianeta dove se vai a scavare trovi ancora i mostri preistorici sono gli oceani ok nelle terre emerse non ce la fanno no quindi la vita dei segni di terra è vero che è un po più banale però ogni le sorprese sono minore certo il terremoto a capita anche lì quindi tsunami scoperta di memorie interiori ma anche parti di sé che ovviamente sono funzionali alla crescita io ricordo sempre che il pesce è l'ultimo segno dello zodiaco quindi è quello che ha racchiuto racchiude in sé tutti i talenti tutte le capacità degli undici segni precedenti li offre al cielo perché quello che ha la necessità di riconnettere la terra al cielo quindi non può esistere un pesce compensato che non sappia che oltre al mondo della materia esista un mondo invisibile che quello che lo fa arrivare alle vette più nobili e quindi è chiaro che il pesce come dire può combattere mostri marini perché ne ha le facoltà se vi è stata data una sfida vista la natura nobile completa e complessa del vostro segno avete anche le spalle larghe e la forza per affrontarla e questo non dimenticatelo mai quindi plutone resterà diretto potone questo grande trasformatore resterà diretto fino al 2 maggio del 2023 quindi come dire questa fase di stall di discesa agli inferi interiori è terminata con questa nuova consapevolezza nello stesso giorno in cui la luna si fa piena e quindi voi rinascete soli liberi data dalle ultime cose dagli ultimi rami secchi dalle ultime convenzioni dalle ulti degli ultimi ricordi negli ultimi sentimenti e anche dalle ultime abitudini che vi hanno trattenuto in un passato voi rinascete iniziate a ripercorrere passo dopo passo la via la via la strada verso il vostro futuro diversi più cazzuti ragazzi si può dire con una luna piena in ariete che vi dà la forza il coraggio di andarvi a prendere quello che volete strepitosissima un paio di settimane per bilanciare il nuovo con le abitudini le cose convenzionali le cose ufficiali che dovrete piano smaltire poi dal giorno 23 devo anticiparvelo la svolta delle svolte saturno torna diretto il sole entra nell'amico scorpione 25 ci sarà la luna il 23 se non sbaglio venere entra venere entra nell'amico scorpione il 25 luna nuove scorpione il 29 mercurio entra in scorpione siamo a cinque pianeti favorevoli e giove il 28 tra il 28 e il 29 torna nel segno dei pesci quindi questa discesa dentro di voi per farvi rinascere a nuova vita ovviamente un paio di settimane per bilanciare il tutto dal 23 metterete in discussione tutto riconfermerete tutto inizia la vostra nuova vita due mesi di giove in pesci per ufficializzare il cambiamento e la rinascita quello che si tiene in piedi quello che regge tra il 28 ottobre e il 23 dicembre verrà consacrato da saturno a marzo 2023 quindi momento strepitoso sarei curiosa di sapere quali sono queste novità queste queste cose che vi animano nel cuore ma se le parole che ho detto all'inizio del vostro oroscopo sono state profeti che voi rinascete soltanto non soltanto principalmente attraverso l'amore aggiungerei anche la bellezza e l'arte è probabile che con questa luna piena in ariete abbiate dimenticato il passato e vi siate siete pronti a vivere il futuro e ad accogliere delle grandi novità legate all'amore alla bellezza all'arte e alla passione quindi sembrate molto liberi in questo momento vi auguro che questa situazione rimanga cristallizzata così e che saturno la consacri perché abbiamo tanto bisogno di pesci come dire risolti perché un segno che ha veramente mille mille talenti che è bene non perdere nel mare magnum delle emozioni quindi ragazzi io vi auguro che questo autunno sia dolcissimo lo auguro a voi lo auguro a tutti gli altri segni lo auguro anche a me stessa vi ringrazio anche questa volta per essere stati con me fino alla fine di questi lunghissimi video vi mando un grande bacio e noi ci vediamo la prossima settimana ciao a tutti